Salve a tutti carissimi amici scacchisti bentornati in Dynamic Chess Finalmente si ritorna a fare un video dopo un po' di assenza Però come potete vedere è un video particolare perché ahimè si fa per dire Sono in vacanza e quindi ragazzi non ho accesso al mio computer E mi sono dovuto adattare Bene ho preso la palla al balzo e ho fatto un video per la rubrica varietà scacchistiche Dove andremo ad esplorare tutte le funzioni che offre chess.com Applicazione per il cellulare Andremo a vedere ragazzi come accedere al motore direttamente Come editare una scacchiera Quali funzionalità offre per migliorare il nostro gioco Vi posso garantire ragazzi che ci sono molte cose nascoste Che sono sicuro che molti di voi ancora non le hanno scoperte Quindi tenetevi forte Prima di iniziare come sempre vi ricordo però di registrarvi al mio canale youtube Così da darmi un grandissimo supporto Attivate la campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornati ogni volta che arrivo un nuovo video E a seguirmi su tutti i miei altri social Facebook, Instagram, Twitch E unirvi al mio gruppo Telegram Trovate tutti i link in descrizione Detto ciò ragazzi iniziamo Questa è la home page Quando aprite l'applicazione vi compare questa pagina Che può essere un po' leggermente Leggermente diversa Per coloro che magari hanno la versione Gratuita Quindi magari potreste avere alcuni banner pubblicitari C'è sotto come offre sì la possibilità di giocare gratuitamente Però con delle limitazioni Per sbloccare tutte le funzioni dovete fare un abbonamento Che può essere di tre tipi Gold, Platino o Diamant E mano a mano adesso andiamo a vedere cosa offre ognuno di questi abbonamenti E quali sono invece le limitazioni per la versione gratuita Nella home page ci sono alcune scorciatoie Prima di tutto in alto troveremo la lista delle partite per corrispondenza Che stiamo giocando Questo ingressetto vuol dire che tocca a noi Invece queste qui più oscurate vuol dire che tocca al nostro avversario Prima piccola curiosità sulle partite per corrispondenza Lo sapevate che potevate analizzare le partite su scacchiera di analisi Basta cliccare qui analisi Ed ecco qui che si apre una scacchiera dove è possibile fare delle mosse Che possiamo supporre il nostro avversario giochi Ed analizzare la partita Ovviamente il motore sarà disattivato E attenzione ragazzi Se voi attivate il motore su questa posizione Cess.com la riconosce E vi dirà che sarà impossibile analizzarla In quanto è una partita in corso Non si bara Non mettete neanche questa posizione Su un altro motore Su un'altra applicazione Perché veramente sarebbe una cosa molto triste ragazzi A scacchi per migliorare Bisogna farlo con la nostra testa È possibile prendere appunti Basta cliccare qui su appunti Scriverci alcune note su alcuni pensieri Che magari abbiamo fatto Questo perché è ovvio Che essendo una partita per corrispondenza Il nostro avversario potrà rispondere tra qualche giorno E quindi potremo dimenticare tutti i calcoli fatti Prendendo su riemposta Si ritorna alla posizione iniziale E qui possiamo anche accedere al libro delle aperture Dove ci fa vedere quante volte è stata raggiunta Questa posizione Che in mossa è stata giocata più volte in questo tipo di posizione Con le percentuali di vincita e di sconfitta Per chi non l'avessero conosciuta Questa è una variante del gambetto francese Che io come sapete Ho trattato in tantissimi miei video Torniamo indietro ragazzi Oltre all'analisi È possibile anche accedere Alle opzioni ed impostazioni Dove possiamo avvisare il nostro avversario Ad esempio che siamo in vacanza Come dovrei fare io in questo momento Oppure ad esempio possiamo disattivare La conferma per ogni mossa Nelle partite per corrispondenza Io preferisco tenerlo attivato Perché comunque potrei confondermi appunto con l'analisi Anziché la partita E fare delle mosse non gradite Inoltre possiamo anche disattivare la chat O renderla attiva solamente per gli amici O cambiare l'opzione di azione Al momento dello svolgimento della nostra mossa Torniamo indietro Chess.com ci informa tramite questa campanellina Di tantissime notifiche Specialmente quando il nostro avversario Ha mosso appunto in una partita per corrispondenza Quindi oltre a questo Ci saranno notifiche per le nostre amicizie Notifiche di ogni genere E poi ci sono alcune scorciatoie Che possono farci accedere alle varie funzioni Questa la più comune È quella che serve per far partire Una partita classica online Contro un avversario casuale Con il tempo che maggiormente abbiamo utilizzato Quindi nel mio caso 3 minuti più 2 Se vogliamo invece fare una partita Con delle impostazioni diverse Dovremmo cliccare qui in basso Su nuova partita Per cambiare semplicemente il tempo Dobbiamo cliccare qui sul tempo E ci sarà data la lista Dei vari tempi disponibili È possibile anche personalizzarla È ovvio che più particolare sarà il tempo Più sarà difficile poi trovare Un avversario disponibile A giocare in quella modalità Per invece personalizzare completamente La partita Possiamo cliccare su partita personalizzata E qui ci dà la possibilità Non solo di personalizzare il tempo Ma anche di scegliere un avversario Che non sia casuale Magari sfidare un amico Ci dà la possibilità di giocare Non solo agli scacchi standard Ma anche ad esempio Agli scacchi 960 La variante Fischer Oppure di giocare una partita sbilanciata Cosa vuol dire? Se dovessimo giocare Contro un avversario Molto più forte O molto più scarso di noi Possiamo giocare Una partita Sbilanciata Quindi con dei vantaggi O svantaggi Può essere automatico Oppure potete sceglierlo voi Ad esempio giocare una partita Senza il pedone H2 Giocare una partita Con il real centro Giocare una partita Ad esempio Molto simpatica Dove il nero Ha già sviluppato Tutti i suoi pezzi Sarebbe veramente Molto difficile Riuscire a sconfiggerlo In questo caso Ecco questo tipo di svantaggi Potrebbe essere una cosa simpatica Per cambiare un po' La classica routine Tuttavia Io preferisco Assolutamente I scacchi standard Oltre a questo È possibile anche Selezionare il range Di avversari Che vogliamo scontrare Ad esempio Selezionando da Meno 200 A più di 200 Oppure decidere di fare Una partita amichevole In questo caso Abbiamo anche l'opzione Di poter scegliere Il colore Io gioco solo partite Comunque Con punteggio Oltre alla partita Personalizzata Possiamo anche giocare I tornei Accedere ai tornei Sia dal vivo Che questi qua Giornalieri Quindi sta a voi La scelta Ce ne sono veramente tanti Alcuni stanno già Per terminare Alcuni dovranno iniziare Tornando indietro Oltre a questo È possibile giocare Con un amico Possiamo inviare Il link della sfida Copiarlo e inviarlo Tramite social A qualcuno Con il quale poi Accettandolo Ci partirà direttamente La sfida contro di lui Oppure possiamo sfidare Qualche amico online Torniamo ancora indietro Da nuova partita È possibile anche Avviare una sfida Direttamente con il motore Scegliendo uno Di vari bot Attenzione Questa è la prima limitazione Per chi ha la versione Gratuita Non ci sono tutti i bot Disponibili Mentre chi ha attivato Qualsiasi abbonamento Avrà la possibilità Di scegliere Tra tutti questi bot A partire da quello scarso Che parte con 250 punti Di elo Ad arrivare al giocatore Più forte Che è il carissimo Icaro Nakamura Con 2750 È possibile anche Giocare contro il motore Che ha un punteggio variabile Dai 250 Fino ai 3200 Torniamo indietro Ritorniamo Alla home page Dove ci sono appunto Le scorciatoie Oltre alla scorciatoia Per giocare una partita Online Contro un avversario casuale Possiamo avere la scorciatoia Per giocare direttamente Contro il motore Come abbiamo visto poco fa In questo caso però Io utilizzo questa funzione Non tanto per giocare Contro il motore Ma per avviare Un'analisi Con motore Infatti non c'è Un pulsantino diretto Per aprire la scacchiera Con motore attivo Quindi avviando la partita Basta cliccare qui Su nuova partita Per terminare La partita in corso Una volta cliccato su finale Ci chiederà Di poter fare Il reso conto partita Attenzione Il reso conto partita Anche è una funzione Disponibile solamente A chi ha L'abbonamento E andremo a spiegarlo Successivamente Più nel dettaglio In cosa consiste Per chi ha la versione gratuita È disponibile solo L'analisi manuale Che è quella che a noi Interessa per avviare Il motore Ovvero basta cliccare qui Su analisi Ci dà l'opposizione Reso conto partita Auto analisi Noi faremo Auto analisi Ed ecco qui ragazzi Che si è aperta Una scacchiera Con motore attivo E qui potremo Semplicemente analizzare Tutte le varianti Possiamo fare anche Qualche alternativa Come potete vedere In basso ci sono Una lista delle mosse Con le sotto varianti È possibile anche Attivare le minacce Questa cosa a me Molto non piace Perché semplicemente Ci indica Quali pezzi sono in presa Ma a volte possono essere Anche delle minacce Non reali E quindi potrebbero Semplicemente confonderci Preferisco giocare Senza minacce È possibile da qui Nuovamente accedere Al libro dell'apertura Come abbiamo visto prima O reimpostare la posizione Dall'inizio E con il pulsante gioca Inizieremo la partita Contro un avversario Ovviamente un avversario Bot del computer Torniamo indietro Oltre a questo Ci sono anche Delle scorciatoie Per quanto riguarda I problemi Problemi appunti Lezioni di scacchi O problema del giorno Adesso più in là Andiamo a vedere Più in ordine specifico In cosa consistono Più sotto Ci sono una lista Di tutte le partite Che abbiamo giocato Se abbiamo vinto O perso O pareggiato E possiamo anche Accedere all'archivio Di tutte le partite Giocate Nel nostro storico Per poterle poi Anche rianalizzare Torniamo indietro E finalmente Passiamo alla sessione Problemi Sessione problemi Che anche in questo caso Ha delle limitazioni Per chi ha la versione gratuita O la versione gold Per la limitazione gratuita È possibile svolgere Fino a un massimo Di 8 problemi Al giorno Per la versione gold Fino a un massimo Di 25 Mentre per chi ha L'abbonamento platino O superiore Potrà fare Un illimitato Numero di problemi Giornalieri Nella sessione appunti Semplicemente Ci vengono proposti Alcuni problemi Tattici da svolgere E ogni qualvolta Rispondiamo correttamente Il nostro punteggio aumenta Se sbagliamo Il nostro punteggio diminuisce Queste sono le mie statistiche Come potete vedere Il mio punteggio più alto È stato 2412 Attualmente Ho un punteggio Abbastanza basso Di 2340 Ho fatto un totale Di 1048 esercizi E qui c'è il mio grafico Non vi faccio vedere Un esercizio prova Perché comunque Essendo alcuni A pagamento Potrebbero essere coperti Da copyright Grafica di problemi Anche queste Hanno delle piccole limitazioni Massimo 25 Raffiche di problemi Per coloro che hanno L'abbonamento gold E qui Sono delle sfide Con noi stessi Ci vengono proposti Una raffica di esercizi Da svolgere Possiamo farlo con il tempo Dai 3 minuti Ai 5 minuti Oppure survival Survival finché Non commettiamo 3 errori Questa raffica di problemi È possibile giocarla Anche contro un avversario Online casuale E chi ovviamente Risolverà più problemi Vince la partita E il suo punteggio Aumenta Tornando indietro Possiamo svolgere Il problema del giorno Il problema del giorno Che è solitamente Abbastanza facile Dove ci viene chiesto Di risolvere Una combinazione tatti A trovare lo scacco matto Vincere del materiale Questo è l'esercizio di oggi E possiamo dare lo scacco doppio Con il cavallo Prendere la torre E dopodiché Vincere questo finale di pedone Il modo più veloce Sembra spingere qui In D4 Scusate E dopodiché Con Re 6 E Re in D5 Possiamo catturare il pedone in C5 Problema svolto Come vedete Ci dà l'opzione anche Di guardare il video Dell'esercizio Che ci spiega Qual è il ragionamento Corretto da fare Per poterlo risolvere Veramente interessante Però lo ripeto Molto per principianti Torniamo indietro È possibile ovviamente Anche avviare L'analisi con il motore Di questa posizione Per Toglierci qualche curiosità E vedere Cosa sarebbe successo Qualora avessimo fatto Delle mosse diverse Oltre al programma del giorno È possibile anche Passare agli esercizi Personalizzati Questo è molto importante Qui Possiamo praticamente Fare degli esercizi A tema E cambiare anche La difficoltà A partire da un punteggio Di 400 Fino a 3000 E possiamo appunto Selezionare un tema Particolare Magari esercitarsi Sui finali di torre Magari esercitarsi Sullo scacco perpetuo O quant'altro Questo serve molto Per migliorare Il colpo d'occhio Ho fatto anche un video A riguardo Che vi consiglio Assolutamente di guardarlo Torniamo indietro E passiamo Alla sezione Lezioni Sezione lezioni Ha alcune lezioni Gratuite a tutti quanti Ma molte sono A pagamento Se avete L'abbonamento gold Potete vederne Massimo 3 A settimana Se avete quella platino Massimo 5 A settimana Invece se avete la diamond Praticamente le lezioni Diventano illimitate E sono veramente Molto interessanti Sono degli esercizi Sulla strategia Molti degli quali Chiedono ad esempio Di fare delle mosse Per migliorare Il nostro pezzo Per completare Lo sviluppo Per impedire Lo sviluppo Al nostro avversario Quindi non sono Dei esercizi Dattici Dove dobbiamo Trovare Lo scacco matto Ma sono degli esercizi Che ci aiutano A ragionare Nel modo corretto Durante una partita Veramente molto interessante Che purtroppo Che purtroppo Non posso farvele vedere Perché essendo a pagamento Sono sempre coperti Da copyright Passiamo alla sezione Today Questo qua Semplicemente ragazzi Sono tutte le news Del gossip Sugli scacchi Che ciasso.com Condivide Potete andare a leggere Qualora siete interessati A vedere cosa succede Nel mondo degli scacchi Passiamo invece Alla sezione Altra Altro Una delle più importanti Dove ci sono tante funzioni Nascoste Che sono sicuro Molti di voi Non conosceranno Ad esempio su altre È possibile andare a vedere Le nostre statistiche Le nostre statistiche Che sono suddivise In base ai vari tipi Di tempo Che noi giochiamo Ad esempio Sulle mie statistiche Rapido Attualmente Ho un ERO Di 1968 Non gioco Da un volpe di tempo Rapido Possiamo vedere Che sono più forti Del 99,7% Delle persone Ventimillesimo 568 In classifica Ho giocato però Solamente 91 partite Vincendo nel 60% Perdendo nel 33% E pareggendo nel 7% Andiamo a vedere qualcosa Invece sulle mie statistiche Lampo Che sono sicuro Sono molto più interessanti In quanto Gioco solitamente Lampo io Attualmente Ho un punteggio Di 1776 Sono sceso molto Visto che il mio massimo Lo potete leggere qua sotto È stato di 2007 Raggiunto nel 20 settembre Del 2020 Il mio avversario più forte È stato Un giocatore di 2102 Con il quale ho vinto E la media Dei miei avversari Di 1720 Ho giocato un totale Di 14.042 partite Vincendo nel 50% Perdendo nel 46% E pareggiandone nel 4% Sono più forte del 97,3% Delle persone E sono 96.867 In classifica mondiale Veramente interessante Oltre a questo Possiamo vedere anche Altre curiosità La media dei nostri avversari Quante volte ho vinto Quante volte ho perso Immediamente Mediamente E chi è stato il mio avversario E chi è stato il mio avversario più frequente Quante partite consecutive ho vinto E quante così Ne ho perse Che curiosità sono uguale Torniamo indietro Su profilo Ci sono alcune informazioni personali Come la nostra immagine di profilo I nostri dati sensibili Che abbonamento abbiamo Per questo motivo preferisco Con una perla Tema Possiamo cambiare il tema Della scacchiera Dello sfondo Possiamo decidere di giocare In maniera 3D Con particolari pezzi Di differente colore Veramente ci sono di ogni tipo E sono veramente molto carini Premi Questo è molto interessante Chess.com Ci dà delle targhe Ogni volta raggiungiamo Alcuni obiettivi Ad esempio Delle medaglie Se raggiungiamo il primo Il secondo Il terzo posto Possiamo raggiungere Alcuni traguardi Che ne sono 112 A disposizione Io ne ho raggiunti Solamente 58 Questo potrebbe essere Di ogni tipo ragazzi Se raggiungiamo Un preciso punteggio Di elo Oppure Se facciamo Alcune elezioni Quindi sotto invece Ci sono tutti gli avversari Le nazionalità Degli avversari Che abbiamo scontrato E sotto tutte le aperture Che abbiamo giocato Nelle nostre partite Oltre a questo Possiamo accedere Alla lista dei nostri amici A leggere i nostri messaggi E accedere a Passa e gioca E qui diventa Molto interessante Passa e gioca Nasce per Giocare una partita Contro un avversario Offline Possiamo giocare Ad esempio Con i bianchi O con i neri E iniziare una partita Contro Un nostro amico Offline Tuttavia Io utilizzo Questa modalità Per importare Le mie partite Ad esempio Facciamo finta Che io Rinuere in questa posizione Ho giocato una partita Con i 4 e 5 E dopodiché Su donna h5 Ho giocato La brutta mossa Come g6 E mi sono beccato Questo scacco doppio E ho deciso Poi di abbandonare Ed ecco qui Che quando finisce Una partita Che sia online Che sia contro il computer O che sia contro Un vostro avico Vi si apre questa pagina Che come ho detto Se avete Qualsiasi abbonamento Da gold a superiore Potete fare Il resoconto Della partita E questo diventa Molto interessante E molto bello Il resoconto della partita Vi fa vedere La percentuale di precisione Che voi avete avuto Ovviamente in questo caso Il bianco ha avuto il 100% Perché io con il nero Ho giocato una partita pessima La cosa bella È che se tornate qui Nei momenti chiave Vi farà rigiocare Tutte le vostre mosse Sbagliate Ad esempio in questa posizione Noi abbiamo giocato G6 Che era sicuramente Una mossa sbagliata E se vogliamo Possiamo fare Il reassunto E ripetere Le mosse giocate In questo caso Non me le ha fatte ripetere Perché non ha considerato Questa mossa G6 Come un errore Però comunque sia Qualora ritenesse La mossa sbagliata Vi dice Adesso cosa giochereste Anziché questa mossa E voi potete Cambiare la vostra scelta E quindi migliorare La vostra posizione Questo ovviamente Non per la partita Ma per un semplice Auto analisi Invece su analisi Possiamo accedere Simplemente al motore E vedere la partita Come è andata G6 Grave errore In questo caso Perché si ubisce Dona per E5 E ovviamente Si perde la torre Torniamo indietro ragazzi Oltre qui È possibile condividere La partita Come vedete Voi potete importare Una vostra partita personale E decidere di condividerla Su qualsiasi social Io personalmente Ve le invio Su Messenger Che si può Auto messaggiare E quindi me le posso salvare Tranquillamente Torniamo indietro Adesso ragazzi Entriamo nella fase calda Ovvero Sulla modalità Apprendi Qui è possibile Veramente fare Moltissimi esercizi Per migliorare Il nostro gioco Su pratica Apprendi Ad esempio Possiamo vedere Le partite Dei grandi maestri Giochi classici O campioni del mondo Possiamo studiare Le aperture Drills Sono degli esercizi Su come attaccare Possiamo vedere Tanti tipi di esercizi Sulle varie aperture Possiamo vedere Come difenderci Ci sono ovviamente Tantissimi esercizi A disposizione Da dover fare I principi Basi dei finali Oppure ad esempio Esercizi Sui finali Partite con squilibri Quindi con materiale Praticamente Non equilibrato Due pezzi Contro una torre Per fare un esempio Oppure ancora Tornando indietro Possiamo fare L'editor Della scacchiera In questo caso Possiamo svuotare La scacchiera O spostare i pezzi A nostro piacimento Per ricostruire Una determinata posizione È possibile anche Caricare Un fan Fan è una stringa Che ogni posizione ha Che viene riconosciuta Quando voi la importate Praticamente La scacchiera Si ripropone Da sola Load fan Inserite la vostra Ringa qui E fate load Oltre a questo Possiamo anche Fare pratica Solo dei finali Scacchi matti semplici Matto con due torri Con una donna Matto di torre Con finali di pedone Finali di pezzi minori Di torre Di donna Oppure finali Con squilibri Di materiale Veramente molto interessanti E molto istruttivi Se avete un po' di difficoltà Ne ricordare le caselle Quindi per scrivere Le mosse mosse Puete entrare su visione E fare degli esercizi Per riconoscere Tutte le coordinate Oltre a questo Come abbiamo visto È possibile accedere Anche al libro Delle aperture Questo qui Era disponibile Anche già In altre modalità Con delle scorciatoie Che abbiamo visto prima Oppure vedere Dei video I video possono essere Molto istruttivi Tuttavia Con Gli abbonamenti Fino a platino Sono limitati Se invece Avete fatto L'abbonamento Diamond Avete accesso A tutti i video In maniera illimitata Più sotto Ci sono alcune cose Sui social Ad esempio Possiamo andare a vedere Quali possono essere Gli eventi in corso Di Jazz.com La classifica mondiale Possiamo vedere La televisione Di Jazz.com Dove ci sono i commentatori Che commentano I vari eventi in corso Leggere gli articoli Guardare le partite Accedere al forum Le notizie E possiamo accedere Alle impostazioni Impostazioni dove Possiamo vedere Il nostro account E quindi cambiare Il nostro abbonamento Modificare il nostro profilo Magari l'immagine O comunque Alcune informazioni personali Cambiare il tema Impostazioni della partita Delle analisi Sulle lezioni Possiamo segnalare Un problema Uscire e collegarci Con un altro account Qualora volete far giocare Un vostro amico Con il suo account Ce ne sono veramente Di tante Comunque le cose principali Che volevo farvi sapere Sono presentemente Queste qui La possibilità Di fare Questi tipi di esercizi Pratiche finali Che vi aiuteranno Sicuramente Ragazzi A migliorare Il vostro gioco Spero che il video Vi sia piaciuto Se così fosse Ragazzi Mi raccomando Lasciate come sempre Il mega like E noi ci diamo Appuntamento alla prossima Spero presto Ragazzi Non appena tornerò Dalle mie ferie Sicuramente caricherò Un nuovo video bomba Detto questo Vi saluto Ciao Ciao